Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di martedì 17 dicembre 2019 sul canale 17 di fano tv c'è occhio ai giornali che comincia con il calendario il santo di oggi il santo del giorno la chiesa cattolica per la chiesa cattolica è san giovanni di mata a roma sul monte celio san giovanni sacerdote che francese di origine istituì l'ordine della santissima trinità per la liberazione degli schiavi il sole sorgerà alle 7 e 32 tramonterà alle 16 e 32 il tempo secondo tre bimetio questo il titolo d'apertura del loro sito tre bimetio punto comma inverno in pausa nei prossimi giorni l'italia tra piogge autunnali e ancora caldo anomalo venerdì rischio intenso maltempo con tanta neve sulle alpi nelle marche oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso secondo il bollettino della protezione civile delle marche con temperature senza variazione di rilievo domani ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento mentre giovedì peggioramento con pioggia che insisterà un po' su tutte su tutta la costa ma anche nell'entroterra saranno deboli e sparse soprattutto nelle ore centrali della giornata il resto della settimana proseguirà con condizioni di variabilità la qualità della vita nella provincia di pesero e urbino stando alla classifica del sole 24 ore è decisamente peggiorata siamo scesi dalla posizione 43 alla posizione 53 insomma abbiamo fatto un bel bel volo all'ingiù e i motivi sono diversi ne parlano i giornali questa mattina cominciamo dal carlino di pesero fuoco amico ora basta questa è la politica con ceriscioli che va a tutto campo pronto alle primarie e dunque se per il governatore delle marche non dovrebbero esserci problemi per la sua ricandidatura al governatore delle marche qualità della vita dicevamo la provincia crolla dal 42 al 53esimo posto la peggiore nelle marche dietro la romagna pesano economia sanità e ambiente ma c'è anche spazio per lo sport quello non giocato la serie c batte cassa e proclama lo sciopero quindi vis e fano si fermano basket invece sacco il coach vl accendiamo la scintilla poi altre notizie che troveremo nelle pagine interne andiamo a vedere la prima pagina del carlino di ancona qui la vita invece è bella nell'annuale classifica ancona la provincia è 31esima in italia silos al porto la beffa delle antenne l'abbattimento dei cilindri quelle al porto di ancona di cemento bloccato da due impianti privati ora si minacciano denunce mentre il carlino di macerata pubblica la fotonotizia sulla rivoluzione in farmacia dove si potranno fare esami medici e più servizi miglioriamo dice alessia filipponi titolare di una di queste farmacie a macerata miglioriamo la prevenzione carli il corriere adriatico l'edizione di pesero autovelox semaforo rosso strage di punti sulle patenti controlli dei vigili nell'arco di un anno la decurtazione è di fatto raddoppiata centro pagina anche qui la classifica della qualità della vita in provincia di pesero mai così in basso il peggior risultato di sempre nell'ambito della classifica del sole 24 ore ultima delle marche la provincia arranca a metà classifica e poi attacchi inutili verso le regionali anche qui il parere su questa su questa candidatura di di ceriscioli attacchi inutili dice lui sono pronto al bis e vi spiego anche il perché andiamo nelle pagine interne affanno invece si discute molto e c'è una polemica molto accesa sulle soste a pagamento soprattutto per questa delibera che è stata approvata in giunta adesso dovrà andare in consiglio comunale ma che sta facendo andare su tutte le furie i commercianti e l'opposizione bagarra nell'incontro che c'è stato con etienne lucarelli e fabiola tonelli due assessori della giunta seri è stato chiesto il retiro del provvedimento l'apertura però solo ad un accordo successivo hanno contestato apertamente questa delibera delibera sull'aumento del numero dei parcheggi a pagamento che la giunta si appresta ad approvare la prossima settimana ed è stata la presidente della conf commercio di fano barbara marcolini anche a nome di altre parlando a nome di altre associazioni come confesser centi cna sotel eccetera arriva a dire questo no all'aumento dei parcheggi a pagamento con i suoi effetti sull'indebolimento del centro della periferia ai danni della piccola e media impresa stiamo parlando di aumenti che si aggirano intorno che passano per esempio nei parcheggi del centro storico tra i 5 centesimi e i 20 e 20 centesimi chiaramente anche l'opposizione con la lega in testa sta dando contro in maniera pesante contro questa decisione della della giunta mentre sul beato antonio il correo adriatico questa mattina informa che è stato trasferito sotto scorta vicino a fabriano le spoglie dal cimitero a valle remita che però anche se non c'è niente di ufficiale perché in realtà questa nuova destinazione è top secret però pare certo insomma che il corpo del beato sia stato trasportato appunto a valle remita nei prassi di fabriano dove si trova la cosiddetta casa madre dei frati minori francescani delle marche l'attuale sistemazione dovrebbe essere provvisori in attesa che la soprintendenza il comune di fano e i francescani decidano sulla collocazione definitiva questa non può che essere nella chiesa di santa vanera nuova fano dove le venerate reliquie scrive fughetti questa mattina hanno riposato per oltre 500 anni questa invece la pagina del resto del carlino anche qui a fano in primo piano il parcheggio a pagamento nessun dietro fronte un'assemblea infuocata tra le sessori Tonelli e Lucarelli e le associazioni di categoria dall'amministrazione solo la promessa di incontro di incontri tavolo tecnico con gli operatori ma Giuliani della Confartigianato dice io non ci verrò Tonelli parliamo di 400 posti auto su 3-4 mila critici però sono appunto i commercianti mentre le reazioni le zone le tariffe che subiranno il ritocchino ma intanto scoppia la bagarre tra Luzzi, Carla Luzzi e Marta Ruggeri dei 5 Stelle per quanto riguarda il parcheggio dicevo a servizio del centro storico gli aumenti delle tariffe varieranno in base alle zone tra i 5 e i 20 centesimi nel pieno della polemica si è scatenato un confronto durissimo anche tra la consigliera dei 5 Stelle Ruggeri e la collega di Incomune Carla Luzzi doveva scontare invece la cronaca sempre da Fano tre anni di carcere in casa nascondeva un chilo di droga in manette un 24enne fanese originario però del Sud America residente a Fano II la scoperta dei militari che erano andati a prelevarlo per reati precedenti vanno ad arrestarlo, trovano un chilo di droga, il titolo invece del Carlino nei guai un 24enne residente a Fano II doveva scontare una condanna a tre anni ma in casa custodiva Ascic, Mariano e Bilancini secondo gli inquirenti si sarebbero potute ricavare 2.500 dosi almeno 20.000 euro di incasso a Terre Roveresche invece qualche tempo fa c'è stato un colpo al Bancomat Creval nel centro di Barchi nel quale abbiamo parlato anche noi sul nostro sito internet la notte tra il 6 e il 7 di dicembre ebbene è stata trovata un'auto in fiamme in questi giorni quella del colpo a Barchi rinvenuta dai carabinieri quest'Audio A3 che fu usata dai banditi per assaltare un Bancomat e quest'auto era stata rubata il pomeriggio dai titolari dell'auto officina Sambuchi di Orciano il 9 novembre davanti alla ditta quindi se la sono tenuti per circa un mese poi l'hanno utilizzata per fare i colpi come spesso accade poi invece il rapinatore che ha rapinato la farmacia Mari in via Rosselli a Pesaro chiede scusa e dice dovevo comprare l'eroina il rapinatore è un giovane tossicodipendente che era fuggito dalla comunità di recupero e pur di trovarsi soldi per comprarsi la dose ha deciso di trasformarsi in un rapinatore così ha portato via dalla comunità dalla quale è fuggito un coltello da cucina poi verso le 13.30 è entrato nella farmacia di via Rosselli approfittando del fatto che quell'ora non ci fossero clienti e poi è riuscito a prendersi 500 euro ma dalle telecamere è stato acciuffato e sempre gli effetti della droga c'è la droga dietro a quel fatto di cui vi abbiamo parlato anche ieri sempre nella nostra rassegna coltellate all'amico dopo il droga party l'assessore sta meglio l'aggressore scusate sta meglio domani sarà di fronte al GIP tracce di stupefacenti assortiti quindi un mix nel sangue del giovane falconarese salvato nel lago di Cingoli ieri erroneamente ho detto era un fiume in realtà è un lago sta meglio dunque questo 19enne di Falconare che la notte tra sabato e domenica ha pugnalato l'amico 24enne che per lui ha una pronuncia di 10 giorni ha tentato di sgozzarlo in preda da allucinazioni da consumo di droga domani mattina comparirà in tribunale insieme all'avvocato per la convalida dell'arresto lotta allo sballo fermati con droga e alcol vedete un bollettino di guerra questa droga che gira a quantità industriali in tutti i paesi, in tutte le città non si salva nessuno dalle grandi città, le piccole città della nostra regione, dell'Italia, del mondo insomma un disastro minorenni sorpresi dai carabinieri fumare marijuana e hashish in centro storico e davanti ai centri commerciali controlli serrati in strada questa invece è la pagina del Carlino Di Pesaro che racconta dell'incontro che c'è stato in prefettura ieri la prima volta del prefetto Vittorio D'Apolla nella veste di anfitrione del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri di Natale e Capodanno con la comunità provinciale di Pesaurbino nella quale si trova ovviamente essendo prefetto a rappresentare il governo centrale da circa otto mesi dei quali ha velocemente tracciato anche un bilancio operativo definito soddisfacente qui ci sono le fotografie con questi momenti c'è anche il nostro operatore qua al centro Stefano Barnesi Di Pesaro che ha registrato e quindi questa sera vi faremo vedere alcune immagini di questo appuntamento di questa cerimonia in prefettura o diciamo della qualità della vita come siamo caduti in basso dal 42esimo al 53esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore peggio della Romagna del resto delle Marche aziende, sanità e ambiente i flop peggiora dunque nella provincia di Pesaro e Urbino lo aveva detto lo studio del giornale Italia Oggi un mese fa un altro studio un'altra classifica però la conferma arriva adesso con invece la classifica del quotidiano economico il Sole 24 Ore con una differenza il primo quindi Italia Oggi aveva fotografato uno scivolone di 16 posizioni rispetto al 2018 il secondo solo di 11 cosa che permette alla provincia bella come la chiamava Occhielli una volta di passare dal 42esimo al 53esimo posto ed è il risultato peggiore come dicevamo tra Romagna e Marche poi ci sono i motivi le motivazioni si cerca di capire il perché al 70esimo posto per esempio siamo per la qualità dell'aria in provincia di Pesaro al 75esimo per i trasporti pubblici insomma è interessante e servirà per capire un po' anche se poi insomma come dice Ucchielli sempre nel giornale Oggi così come Ricci che invece non commenta insomma Ucchielli dice bisogna vedere chi li fa questi sondaggi e come li fanno bloccati questa è una disavventura che è avvenuta ieri sulla ruota panoramica a Pesaro sono stati bloccati ieri poco dopo mezzogiorno e mezzo li ha lasciati in cima la ruota panoramica dopo aver spuntito il motore per andare a pranzo per la pausa a pranzo è successo l'altro ieri domenica poco dopo mezzogiorno e mezzo l'ha detto non ha ripensato a quei clienti che ancora erano in rotazione e nemmeno loro hanno capito lì per lì che quella strana sosta in altezza fosse un disguido pensavano fosse invece un modo per fermarsi un attimo e vedere il panorama dall'assù in realtà hanno realizzato solo dopo un po' che l'ha detto alle macchine si erano andato era andato via insomma lasciandoli da solo in cima così hanno chiamato i vigili del fuoco pregandoli di fare in fretta per mettere in salvo appunto queste persone che erano erano in cima alla ruota allenatore si dimette dopo l'incidente della figlia il mister Massimo Cecchini il padre è rinunciato al campo da calcio e ad allenare la sua squadra il Santa Veneranda che è venita nel giro NEA di prima categoria per correre dalla figlia e starle accanto il più possibile da quando un paio di settimane fa lei Lucia Cecchini 37enne pesarese trasferitasi a Milano da tempo ha avuto un grave incidente sulla strada del capoluogo Lombardo era la guida del suo scooter quando all'improvviso si è trovata sulla sua traiettoria un ragazzino che attraversava la strada e quindi lo avrebbe centrato e travolto in pieno se non avesse cambiato direzione e questo però ha fatto sì che ha sbattuto il volto sull'asfalto riportando frattura al naso la mandibola e anche ad altre parti del viso un impatto davvero violento e quindi l'allenatore ha detto mi fermo e vado accanto a mia figlia al campus scritte contro i poliziotti a Pesero caccia agli imbrattatori del fine settimana il preside del Marconi dice un gesto gravissimo da condannare la provincia assicura ripuliremo tutto quanto e poi Belloni l'assessore che fa lo sceriffo e smaschera finti sordi l'assessore di nuovo ha scoperto l'inganno e poi ha chiamato la polizia ed ecco qua la notizia sempre su Belloni ma dal resto del Carlino vestito da sceriffo Belloni Bracca due finti sordi sono truffatori l'assessore sempre operativo intercetta due giovani in via Curiel che chiedono soldi ai passanti li filma e poi chiama il 113 ci sono delle bande dice lui che si muovono in centro chiedendo soldi per presunti handicap e Natale mezzo stipendio invece per gli operai della Berloni oggi dovrebbe essere pagato il mese di novembre in previsione 6-700 euro per 85 dipendenti ora emergono i verbali dell'ultimo CDA tenutosi a Roma ancora non è stato fissato l'incontro al Ministero l'AS Morani dice contatti sì ma c'è il vincolo della riservatezza sull'export il mobile mobile in affanno per la meccanica trend positivo l'analisi è di Moreno Bordoni presidente dell'azienda speciale della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino Ceriscioli le cose fatte il debito è stato ridotto io sono l'uomo giusto dice il governatore nella sua Pesaro parla al PD e agli alleati non mi piacciono gli attacchi inutili perché ci indeboliscono il Capitombolo di Pesaro maglia nera in regione bocciata sull'ambiente per la provincia il peggior risultato di sempre siamo sul Corriere non consola il balzo nella sicurezza il lato debole troppi rifiuti prodotti a testa si sfiorano gli 800 chili annui Urbino convoca ma la regione snobba malgrado Ceriscioli e il direttore Magnoni siano stati invitati dal Consiglio Comunale per parlare di sanità non hanno mai risposto e poi Gardner Tullis il ricordo di chi lo ha conosciuto l'artista americano ottantenne deceduto di recente ha passato gli ultimi anni gli ultimi vent'anni a Pietrarubbia da Senigallia il Corriere Piero e Bruno la chance della Caritas cercano il riscatto sotto lo stesso tetto che cosa succede? due senigalliesi di mezza età si sono incontrati per caso alla Caritas e hanno deciso di avviare una convivenza hanno unito le forze per mantenersi senza dover più chiedere aiuto attenzione stiamo parlando di un'altra convivenza non stiamo sponsorizzando la convivenza in questa rassegna stampa perché in attesa nessuno dei due ha incontrato la donna della propria vita e dunque hanno optato per dividere le spese sono due signori di mezza età uniti dalle complicazioni della vita che per motivi differenti li hanno portato a trovarsi costretti a chiedere l'aiuto e l'ascolto della Caritas sempre da Senigallia il consiglio comunale al buio per un blackout elettrico connessione flop salta pure la diretta streaming su internet il municipio resta senza corrente elettrica e dunque all'accensione dell'albero di Natale in piazza Roma il sindaco ha parlato di un cortocircuito ma non ha saputo spiegare la causa Urbino Corriere Adriatico innovazione la città cambia vita accordo sottoscritto dal comune con tre università il vice sindaco Cioppi possiamo diventare un centro pilota europeo la via italiana la trasformazione ambientale rotonde qui siamo a Fano ancora anche se nella pagina della Valle del Metauro le rotatorie le rotonde arredate servono più soldi non c'è niente da fare siamo sfortunati con ste rotatorie non ce n'è una che si salva nel senso che sono brutte diciamoci la verità sono state stanziate altre 26 mila euro in aggiunta ai 53 mila appaltati a disporne sarà sempre l'azienda Clini paradosso emblematico nel rendo di via Fanella aspettando il city brand l'opera non è visibile dalla strada infatti bisognerà andare in qualche condominio lì vicino tanto per togliersi la soddisfazione e vedere che effetto fa guardarla dall'alto perché dal basso mentre sei in macchina non si vede niente io va bene allora premiati imprenditori della piccola media industria bella serata della Confapi condotta dal presidente Vitali con diversi ospiti istituzionali questo è un fatto che è avvenuto a Sant'Ippolito vediamo l'ultima pagina una delle ultime pagine della nostra rassegna stampa a Pergola è nato il comitato Mamme ed era battaglia sulla sanità di recente la prima uscita pubblica tra gli obiettivi la difesa appunto dell'ospedale di Pergola da Vallefoglia ciclovia del Foglia lavori nel 2021 la nuova mappa dell'eocoturismo attraverserà lungo 33 km in Monte Labbate Vallefoglia Tavuglia Monte Calvo e Auditore questa era l'ultima pagina ma c'è tempo ancora per vedere le prime pagine del Carlino e Corriere di Pesaro allora sulla qualità della vita abbiamo già parlato abbastanza è il titolo però d'apertura del resto del Carlino poi il fuoco amico su Ceriscioli ci sono diversi quelli che anche all'interno del PD chiedono un cambiamento e dunque preferirebbero che Ceriscioli non si ricandidasse alla prossima tornata elettorale per la regione ma Ceriscioli dice io sono l'uomo giusto come abbiamo visto e a tutto campo nell'incontro che ha avuto a Pesaro nella sua Pesaro dove ricordate insomma Ceriscioli è stato sindaco anche della città di Rossini e dunque dice lui sono pronto alle primarie come dire non ho paura di nulla il gestore se ne va a mangiare e alcune alcune persone sono rimaste bloccate sulla ruota panoramica il gestore non si era accorto che c'era ancora qualcuno su in cima che stava girando poi cacciatori di finti sordi Belloni concede il bis filma tutto e posta su Facebook e caccia via i presunti truffatori vanno ad arrestarlo trovano però un chilo di droga i carabinieri erano andati per una vecchia condanna questo è successo nel quartiere di Fano 2 andiamo per chiudere sul Corriere Adriatico ecco la prima pagina autovelox e semaforo rosso strage di punti sulle patenti i controlli dei vigili nell'arco di un anno la decurtazione è di fatto raddoppiata non sono soltanto le sanzioni lo sparacchio degli automobilisti al volante un discorso a parte merita la decurtazione dei punti e il primo semestre del 2019 cioè gennaio-giugno ha visto una vera e propria impennata di punti decurtati che sono in pratica raddoppiati se comparati con lo stesso periodo del 2018 mentre a centro pagina anche qui sulla qualità della vita mai così in basso il peggior risultato di sempre vanno ad arrestarlo in casa scoprono un chilo di droga Ashesi e Mariuane in manette un 24enne fanese i militari dovevano portarlo in carcere per altri reati ma questo fanese di 24 anni originario del Sud America poi è finito in carcere a Villa Fastici è tutto per la rassegna stampa di oggi grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo questo è il numero di telefono da segnare sul vostro da memorizzare sul vostro cellulare per mettersi in contatto con noi potete utilizzare naturalmente anche Whatsapp inviarci foto, video e quant'altro io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.